Non sapete cosa vi dovete mangiare stasera? E scaurate 3 patane e le schiattate con una furchetta Aggiungete il burro a piezzi Miscate anche quello A questo punto arrapite 3 uova di gallina coccorate Cominate 2 torni nelle patane E un tuorloni di spinaci Fatti semplicemente con burro parmigiano Ora aggiungete pure un cucciaro di latte sia di qua che di là Un po' di povera bianca Miscate le patane e poi passate agli spinaci Questi però li dovete scamazzare con uno scamazzatutto Quando avete fatto una bella pappoglia Aggiungete anche un cucciaro di farina Vi ammiscate Deve incorporare tutto il sistema ortopedico Invece con gli albumini dovete abbuffare Con un brullatore Poi cucchiari negli spinaci E il resto nelle patane Miscate bene dal vasso verso l'altro Tutte e due le pappoglie Ora in una placca La carta a forno Il verde Fate tanti cerchetti E poi ci minate il giallo sopra Ma niente se è un po' così Mischiano tanto e avutandolo Vero stesso Lo fate cuocere nel forno 15 minuti 200 gradi Vatelo a raffreddare bene E poi ci spalmate sopra O la ricotta o formaggio spalmabile Le felle di salmone Ravigliate il bello stretto stretto Sempre con la stessa carta a forno Si spara gnammo Lo fate indostare Mezz'oretto nel frigo A questo punto tagliate le felle E come sempre Buon appetito Grazie a tutti Grazie a tutti